Silvana Comaroli, qual è il suo giudizio su questa legge di stabilità? Assolutamente negativa in questa legge di stabilità, dove non c'è nulla per i cittadini, non c'è nulla per l'impresa, non c'è nulla per i nostri comuni e questo governo adesso addirittura ci chiede il voto di fiducia, ma assolutamente il contrario, è una cosa vergognosa perché l'unica cosa decente che c'è, che avevano presentato l'emendamento per alzare il livello di rivalutazione delle pensioni all'ultimo minuto i relatori l'hanno cambiata, non si capisce perché. E cosa fa? Questo governo continua invece con il suo solito sistema di, oserei dire, marchette, perché non si può finanziare e l'Università di Palermo e il Museo di Roma e gli italiani all'estero e la lingua slovena e quant'altro, basta, è ora che si pensi a tutti i cittadini senza fare nessuna differenza cosa che invece questo governo fa e guarda caso sempre solo verso una parte del nostro territorio, guarda caso il Sud. Una delle marchette più grandi forse è quella sulle pensioni d'oro. Sì, sì, anche questo qua, non si riesce a capire la razza di un governo dove un governo che non ha un'azione di programmazione di guardare al futuro ma guarda solo ad un dito davanti al suo naso e non invece nel lungo periodo, cosa che invece noi cerchiamo di fare noi abbiamo presentato un sacco di emendamenti che andavano veramente nell'abbassare le tasse ai cittadini, nell'allentare il patto di stabilità e ai nostri comuni, nell'abbassare le tasse alle imprese perché sono le imprese, ricordiamoci, che sono le uniche che stanno resistendo e sono loro che danno lavoro. Purtroppo cosa ha fatto il governo? Non ci ha accettato nulla. Una cosa fu...